Libero Consorzio Comunale di Enna, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato all'unanimità il proprio regolamento. Presenti 12 sindaci su 20 che hanno espresso parere favorevole al testo modificato rispetto all'assessura uguale per tutti i consorsi proposta dall'assessorato regionale alle autonomie locali. Sono 27 gli articoli componenti il nuovo regolamento rispetto ai 10 della proposta assessoriale. 3 milioni di euro dal governo musumeci per i comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. A beneficiarne sono 167 comuni delle nuove province dell'isola. In provincia di Enna i beneficiari sono i comuni di Assoro, Cerami, Leonforte, Sperlinga e Troina. Tra i progetti pilota di agricoltura sociale innovativa finanziati dall'assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali è presente anche il progetto Fattorie Sociale del Wellcome. L'obiettivo è creare nuovi luoghi di aggregazione e inclusione sociale attraverso attività innovative di agricoltura sociale e animazione territoriale, grazie ai terreni messi a disposizione dal comune di Calascibetta, partner del progetto che è stato presentato all'associazione temporanea di scopo che ha come ente promotore il coordinamento regionale volontariato e solidarietà Luciano Lama. Palla a mano torna in campo l'Orlando Enna che domani pomeriggio giocherà a fonti contro la capolista del girone. Andiamo senza troppe tensioni, ha comunicato il tecnico ennese Salvo Cardaci. Al di là delle nostre assenze gli avversari hanno dimostrato di essere superiori a tutti con una batteria di stranieri di alto livello e sono i candidati numero uno al salto in serie A1. Il calendario della raccolta differenziata nella cittadienna prevede stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta dell'umido, nel pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione-ennalive.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.